Si sono fatte tante parole in questi giorni sul regolamento di polizia municipale che è stato da poco approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale di Fossano. Sindaco, lei è stato come primo cittadino al centro di queste polemiche. Che cosa dice? Io diciamo che è già stato detto il tutto e il contrario di tutto. Io posso dire semplicemente una cosa. Non abbiamo impedito sicuramente ai ragazzi e ai bambini di andare a giocare. Semplicemente abbiamo messo alcune regole che già c'erano ma non erano scritte. Le abbiamo semplicemente scritte. Noi non siamo contro i bambini che vanno a giocare nei parchi. Ogni parco ha le sue aree adibite. Noi stiamo investendo dei grandi capitali, delle grandi risorse del Comune di Fossano per costruire, per fare nuovi campi da calcio proprio per i ragazzi, per i bambini che si possano divertire e giocare. Non siamo come le precedenti amministrazioni che hanno chiuso i campi da calcio. Ecco io volevo soltanto dire questo. Da parte nostra massimo impegno ovviamente non per chiudere i bambini in casa. Per strada, beh per strada insomma non parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa che potevi giocare per strada. Adesso non puoi più semplicemente perché c'è un pericolo. Quindi è giusto che i bambini abbiano i campi da calcio che si possono divertire in aree attrezzate per loro. Grazie. 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 Grazie.